23 anni fa quando arriva dietro quando arriva dietro che picchia fai un saltino sulla moto cioè aiutalo aiuta al dietro che ti salta al posto di tagli perché se gli dai è alto e ti comincia a scivolare fa un saltino Matteo si dice prova deve saltare infatti glielo ho detto primo colpo dai la pressione il momento che ti pica che sta arrivando poi ti indietro l'altra pressionata e tu e non accelerare così taglia perché è bagnato va bene devi soltanto aiutarlo allora se tu impari a fare bene quello basso poi impari pian piano a fare quello se fai male quello basso quello alto non farai mai non lo fai poi va bene oh non c'è più voglia ma sei impazzita non va più no devi appoggiarsi come il cane a fare prima fermo capisci tocca al davanti non c'è più non c'è più non c'è più non c'è più e sembra ma per l'ora che iniziano poi senza guanti figaro come cazzo fai? è un amico questo esatto e non si muovono cazzo è una candiera devi muoverti muoviti tanto io se devo girare qua è un muovo in giro? no il movimento c'era guarda fai il movimento oh 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 non va bene l'accelerare se fai così quando è estate che è asciutto che ti prende yahoo e come va via malattore se non prendi la pressione fai tanto il movimento fai tanto il movimento fai tanto il movimento già lui muovi più la pressione non si muovono mai se ne prende il movimento 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 cioè ascolta ma guarda che è più basso no devi farglielo più alto no più basso ma devi farlo più alto no più basso devi farglielo più alto perché così imparano sennò vanno fuori lo stesso quando appoggi vieni qua di fianco vieni qua da guardarlo da qua lo devi guardare e lui lo fa già diverso vedi che si muove anche poco invece io cerco di farti vedere proprio devi proprio schiacciarla devi schiacciarla poi sono troppo bassi dovete fare un po' più alti perché sennò non imparate se li fai troppo bassi non impari devi alzarlo un pelino vedi come salta su dietro però devi alzarlo devi fargliene uno un po' più alto devi tenere un po' più alto ma troppo alto troppo alto troppo alto va bene bisogna andare di sopra perché qua non ce n'è qua bisogna farli di sopra sparti farli da sopra ci vediamo ci sono tutte le piatte vediamo eh guarda 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 dove c'è che è girato?